Ciao a tutti ragazzi, sono SilveredX in questo nuovo video, sono qui tornato su Burnout Paradise Da quanto tempo non porto questo gioco con una macchina scassata E dobbiamo entrare nelle spiagge di Big Surf Island Che cosa è tutto questo? Allora ragazzi, hanno fatto un DLC molto tempo fa, beta, in fase beta Per appunto il computer, per il PC Quindi questo DLC comprendeva le spiagge di Big Surf Island con tante rampe e tante altre cavolate E non ho capito se ci sono anche delle gare in questa, in quest'isola Pertanto hanno aggiunto tantissime nuove vetture appunto, per cui appunto questa qua che stiamo utilizzando Più che altro questa è solo una livria No, non ho capito, le gare non le hanno aggiunte Male, male, malissimo Allora ragazzi, io devo portare questo gioco già da tanto tempo Come al solito ho fatto una serie e non l'ho completata perché appunto questo episodio fa parte della serie Quindi non è completabile L'ho voluto portare perché so che piace comunque alle persone Qualcuno me l'ha anche richiesto Quindi, wow, 401 cancelli sfondati Quindi io lo sto portando, io non sto capendo nulla Quale velocità proprio stiamo andando Giusto per provare, siamo entrati in quest'isola Semmai usciamo, teniamo questa vettura ed eventualmente facciamo altre gare Vediamo un po' che cosa sta qua Vediamo, oppla Uhuhu, vai che bello No, no, attenzione, attenzione Guarda con quale velocità sto andando Allora usciamo da quest'isola perché Wow, no Che brutto Che cosa ho combinato Uhuh, un super salto Dove? Dove? Nell'acqua Rip, non riesco a uscire da questa cacchio di isola qui Proviamo a prendere la strada di qua Devo uscire per forza Mi piacciono molto queste spiagge comunque Uh, quindi Big Surf Island proprio No, non riesco a saltare Ma perché rifaccio sempre la stessa strada? Perché mi fai responare così? Da qua devo andare Wow, prendiamo Eccolo Un cartellone pubblicitario Andiamo a Semmai o cambiare macchina Oppure a fare qualche gara normale Oddio, come si sale qua? Che strada ho preso? Dove vado? Oh, questo lo devo fare Questo lo devo fare Perdonati ma lo devo fare A quale velocità proprio Guarda che mi hanno fatto certi scatti proprio No! Oh! Non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta a saltare però No, 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 no! Possiamo anche prendere delle auto dalla polizia? Quindi adesso prenderò Semmai una vettura che a me piace tantissimo Però in versione poliziesca Vediamo se sta Eccola qua PCPD 25 V16 Revenge Oh mamma mia questa macchina Quanta è bella È bella? Adesso è pure notte Ho attivato tipo Ah! Il clax è una sirena Ma adesso andiamo a fare una gara Di quelle normali Di quelle che piacciono a noi Per chi non sapesse comunque Cos'è questo videogioco Vi consiglio di andarvi a vedere I miei precedenti episodi appunto Della serie Dove appunto Un po' più di gare Sul Su questo gioco Oh mio Dio Quanto è lontano Da quanto è che non faccio questa gara? Il semaforo è buggatissimo Non si vede E facciamo l'inseguimento La macchina della polizia La pula La pula Gli sbirri Mamma mia Guarda 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 No 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 Che sto combinando? Non vedo niente Non sto capendo nulla Aiuto Dove andiamo? Dove andiamo? No! Ho preso qualcosa in pieno A meno male che c'ho C'ho pure la sirena Della polizia Quindi si dovrebbero scansare tutti No! No! Che cosa? Mamma mia Ma proprio Una leggerezza Questo video Spegniamo la sirena Perché è fastidioso No no Levati Levati No! Signora! Signora! Via! Opla Oh! Ho buttato un altro fuori C'era la stessa macchina Tu no no! Bastardo! Oh è volato via anche lui però Come cazzo corre? Devo prendere forse una macchina più lenta Oddio ragazzi So io come superarli tutti adesso Datemi un po' di turbo Datemi un po' di turbo Vi prego Vi prego No! Che dove è uscito quel camion? Però è proprio pericolosa sta macchina eh È pericolosissimo guidare con questa Le sirena Opla Oh mio dio Che cosa sto combinando Ho vinto? Ho vinto Ho vinto Dove vai? Dove vai? Dove andare dall'altra parte? Ragazzi sto andando a gran velocità Guardate guardate Opla C'è Oh Cado giù Comunque siamo quasi arrivati al garage Dobbiamo cambiare la brum brum Cioè lo state vedendo a che veloce sta andando? L'avessi fatto prima così però Giriamo adesso Vado veloce Vado velocissimo Di notte Ho sgrasciato la macchina malissimo Ma l'anteprima di questa macchina Non c'entra niente con la macchina in sé Vediamo questa macchina che sicuramente sarà ancora più veloce Oh mio dio Un po' troppo veloce Aspetta 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 Ragazzi io ho paura a usarla questa Torniamo indietro Andiamo a prendere qualcosa di più lento Giusto per farvi capire un po' qualcosa di più Beh questa è bella Questa è proprio bella Dovrebbe essere un po' più lenta Adesso proviamo Vai Proprio bella Pure dorata no? Di notte come fa Guarda anche se ho una vernice un po' opaca Non proprio metallizzata in sé Cioè boh Oh i semafori qua non ci sono Ma che cacchio Ho tutto pagato eh Oh ma non vale Quello c'era una macchina mia di prima Spero che qua adesso si capisca qualcosa di più Rispetto a prima Oh ho buttato quello fuoristrada Beh qualcosa di più proprio no Anche perché abbiamo preso una zona trafficata Bene aspetta Ora devo girare Devo girare Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Oddio Si gira? Opla Guarda guarda che drift c'è No che cosa ho fatto? Oddio Dai siamo quasi arrivati Non ho raggiunto nessuno Eh ma che falle Prendiamo sta strada Dove ci porterà? Dove ci porterà tutta questa strada piena di tubi? Eh ma no Stiamo perdendo Possiamo superare a quell'altro Sì no Sì no curva non era di là e di qua che si gira ma perché giri così no ragazzi non me la sento proprio di guidare una macchina così veloce e questa roba che cacchio è scusate la voglio provare non l'ho mai vista o ma cos'è parte una tamarrata assurda o com'è pesante o che l'hai preso dio che li prende che le prende quando butto il turbo che cazzo si trasforma ma che cos'è oddio è campo ancora guarda quando butto il turbo vola tutto oh mio dio ma cos'è andiamo a fare una gara assolutamente naturalmente niente semaforo e naturalmente tutte strade trafficate perché quelli girano io no cambiamo colore alla macchina però rimane rotta perché quelli riescono a girare quando butto il turbo io no e naturalmente sempre strade trafficate io quando mai ma cosa combina questa vettura è stranissima no bellissima no 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 non mi si schianta ma perché ecco ora si è schiantata si è anche distrutto guarda pure quell'altro scemo con quale proprio rampage che cazzo ma devo girare e va buo e va buo dai può essere può essere cosa non sto capendo che cosa succede ragazzi la macchina sta volando ah non lo sapevo cos'è si vola ho preso tutto in pieno ma fa un bordello della madonna proprio non si capisce nulla buttano fuori ma che cosa succede qua ma perché vola vai torna sulla strada per favore ecco grazie ci hanno lasciato le fiammate a terra queste macchine ma cos'è ma cos'è questa macchina ti giuro non l'ho mai guidata queste sono tutte macchine di sto dlc brutto vola 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 ho preso un impieno dai che siamo quasi arrivati volando proprio ma lì ricresce lo spoilerone da dietro perché cos'è setta setta ma che cosa è successo no ti prego cammina bolla no che cosa fai meno superato meno superato era superato all'ultimo no sti bastardi meno superato all'ultimo ma come si fa ma dico io come si fa all'ultimo proprio dai la stavo vincendo cioè ragazzi guidare non è mai stato così bello grazie a tutti